Ok, grazie. Anzitutto vi ringrazio per la possibilità di contribuire a questa conferenza, a questo momento così potente insieme a tutte e tutte voi. Il mio intervento sarà un intervento storico che spero potrà un po' chiarire anche le riflessioni dell'intervento precedente. Il mio intervento si intitola Processi di accumulazione originaria nella società sumera perché appunto per una discussione circa l'origine del capitalismo è necessario partire appunto dal concetto di accumulazione originaria. Un concetto che indica un'accumulazione che non è il risultato ma il punto di partenza del modo di produzione capitalistico. Dunque il processo di accumulazione originaria indica un processo storico che rivela delle condizioni strutturali necessarie all'esistenza della società capitalistica. E quindi è stato il femminismo materialista e fucoltiano che ha svelato l'arcano di questo processo. E in particolare il lavoro di Silvia Federici che ha mostrato come la transizione al capitalismo sia stata una risposta dei signori feudali dell'aristocrazia mercantile, dei vescovi, dei papi rispetto al duro conflitto sociale che tra il 1350 e il 1500 stava facendo vacillare il loro potere. Quindi si è trattato di una vera e propria controrivoluzione e non il risultato di un processo evolutivo in grado di liberare forze economiche maturate all'interno del vecchio sistema. Quindi lo sviluppo del capitalismo non era l'unica risposta possibile alla crisi del potere feudale tanto che invece in Europa grandi movimenti sociali e ribelli si prospettavano una nuova società ugualitaria e cooperativa. Dunque la strategia messa in campo dai gruppi dominanti fu quella di cooptare dei giovani lavoratori maschi in lotta mediante un'iniqua politica sessuale che trasformava il conflitto di classe in antagonismo nei confronti delle donne facilitando così l'introduzione di una nuova divisione sessuale del lavoro e la svalutazione della posizione sociale femminile e la caccia alle streghe rappresentò il culmine della violenza di questo processo. Dunque tra il XVI e il XVII secolo si costitui uno stato centralizzato in grado di controllare la riproduzione e di imporre l'esproprio dei mezzi di sussistenza ai lavoratori europei e l'asservimento delle popolazioni indigene americane e africane nelle miniere e nelle piantagioni. Dunque l'accumulazione originaria che è appunto all'origine e a fondamento del capitalismo non è soltanto una struttura economica ma è un vero e proprio dispositivo di governance come sottolineò Gialan e non è stata dunque una semplice accumulazione e concentrazione di forza lavoro e di capitale ma un'accumulazione di differenze e di divisioni nella classe lavoratrice così che le gerarchie basate sul genere ma anche sulla razza, sull'età sono diventate un elemento costitutivo del dominio di classe e della formazione del proletariato moderno. Dunque questa archeologia della transizione al capitalismo deve essere collocata all'interno del quad della filosofia di Ogialan poiché tale origine della divisione della società su cui si basa l'accumulazione originaria deve essere rintracciato nell'antica Mesopotamia, quindi nella società sumera nella fase di istituzionalizzazione della gerarchia. Soprattutto l'accumulazione originaria in antica Mesopotamia si sviluppa principalmente grazie a due fattori la trasformazione della mentalità della società in senso patriarcale e lo sviluppo dell'agricoltura. Per quanto riguarda il primo punto bisogna sempre tenere presente che in origine furono le donne a sviluppare una forma di società sedentaria nella quale ricoprivano un ruolo decisivo in quanto centro della cultura, del sapere, delle relazioni con l'ambiente e della riproduzione della comunità. Il cambio di mentalità rispetto a questa società naturale si ebbe quando l'uomo forte si alleò con il gruppo degli anziani per sviluppare sistematicamente una forma di società rivolta contro le donne educando e formando alcuni giovani uomini al combattimento violento e sanguinario. Dunque da qui si svilupperanno l'autorità e la gerarchia l'autorità patriarcale che si trasformerà in ultima istanza in autorità statale. Dunque in origine l'autorità maschile emerge in una società radicalmente comunitaria incentrata sul principio della redistribuzione contro forme di accumulazione considerate profondamente contrarie alla morale e alla religione. Infatti lo stesso Ogelan riconosce che prima che il dominio facesse parte delle relazioni umane l'uso della forza maschile non poteva imporsi in maniera definitiva invece il dominio ha a che fare con il possesso la condizione del possedere dice Ogelan è il nocciolo di tutti i sistemi di proprietà dunque una nuova epoca storica iniziò quando nella comunità donne, bambini, giovani come pure i territori destinati alla caccia e alla raccolta iniziarono ad essere considerati come una proprietà e nel frattempo la figura dello sciamano era occupata a ideare la mitologia di questa nuova era quindi questa analisi mette in evidenza l'articolazione di subordinazione patriarcale e processo di accentramento proprietario e rivela in modo ancora più chiaro come il capitalismo deve essere compreso come dominio da parte di poteri possessivi sfruttatori, coloniali e assimilazionisti dunque come monopolio di potere e capitale questo nuovo sistema si espresse compiutamente nella cultura Tardo-Uruk che si diffuse in Mesopotamia tra il IV e il III millennio a.C. in relazione soprattutto all'adduzione di una nuova tecnologia di un nuovo metodo legato all'agricoltura molto simile al sistema delle piantagioni che fu dunque determinante per lo sviluppo del capitalismo non solo per l'immenso surplus di forza lavoro che accumulò ma perché delineò modelli di organizzazione del lavoro di produzione destinata all'esportazione e di divisione internazionale della forza lavoro che sono diventati paradigmatici dei rapporti di classe capitalistici dunque tale tecnologia agricola necessitava per l'impianto e la gestione di una forma di autorità in grado di coordinare e pianificare l'installazione dei terreni attraverso la colonizzazione di ex novo di aree abbastanza estese e dunque l'organo di gestione centralizzata che si attestò come fulcro di questo sistema fu il Tempio il Tempio tuttavia non poté svolgere questa funzione senza questa funzione materiale, infrastrutturale senza una legittimazione ideologica che portò a scegliere il Tempio tra altre varie agenzie centrali possibili infatti la sottrazione di risorse ai produttori per l'accumulazione all'interno delle risorse e dei beni all'interno del Tempio richiede una forte dose di coercizione che può essere fisica o meglio più efficacemente ideologica e dunque il Tempio era l'unica istituzione in grado di convincere i produttori a cedere sostanziose quote del loro lavoro a vantaggio della comunità e dei dirigenti del Tempio che facevano le veci della divinità sulla terra dunque per fornire legittimazione alle nuove gerarchie era necessario produrre un apparato simbolico dell'autorità ben riconoscibile e la strategia utilizzata fu quella di ampliare i territori sotto influenza delle prime città-stato che si trovavano in Mesopotamia meridionale e di riperire grandi quantità di metallo legne, pietre preziose per arricchire i nuovi edifici pubblici monumentali tutti materiali che non erano reperibili in Mesopotamia meridionale dunque il rapporto di sfruttamento economico del centro quindi della Mesopotamia meridionale dove si trovavano le prime città-stato rispetto alla periferia quindi le altre zone della Mesopotamia non riguardava per lo più l'esproprio di beni di consumo primario che invece venivano gestiti in maniera autonoma dalle popolazioni indigene ma invece esso intaccava il modo di vivere di queste popolazioni indigene costrette per esempio ad impiantare economie estrattiviste sui loro territori a vantaggio delle città del sud come fu per esempio appunto per i cantoni montani del nord della Mesopotamia quindi nel nord del Kurdistan siti in zone minerarie e tale sfruttamento non aveva ripercussioni solo sull'economia ma anche sui modi di organizzazione della società infatti le società dei territori periferici rispetto appunto al sud non ancora strutturate secondo il modello statale assistettero a un'accelerazione dei processi di rafforzamento della gerarchia in quanto i gruppi di potere locale assimilando lo stile di vita delle comunità e delle città sud mesopotamiche diventarono interpreti di questo vasto sistema di dominio quindi in conclusione questa prospettiva femminista materialista e genealogica può fornire ulteriori argomentazioni per comprendere per quale motivo Hojolan faccia risalire le origini del capitalismo alla società sumera dove si inaugurarono appunto quei fenomeni sia materiali che ideologici che permangono ancora oggi nei processi di accumulazione originaria ossia dunque l'aumento delle violenze contro le donne l'esproprio dei beni comuni e il colonialismo grazie Grazie.